Gestire un hotel è un lavoro a tempo pieno, formato da tanti elementi diversi. Come molti albergatori, passi tutto il tuo tempo a sbrigare e assegnare compiti o a cercare soluzioni esterne che ti aiutino a gestire le tue attività. È ora di tornare a concentrarti su ciò che ti riesce meglio, mettere i tuoi ospiti al primo posto. Ecco perché abbiamo creato Room Raccoon, un gestionale per hotel all-in-one che attraverso un'unica piattaforma intuitiva permette agli albergatori come te di vendere, distribuire, gestire e far crescere la propria attività, senza bisogno di integrazioni esterne. Fai risparmiare tempo al tuo staff con gli automatismi. Grazie a Room Raccoon, attività come la gestione degli ospiti, i pagamenti, le pulizie e la reportistica diventeranno facili e naturali. Il risultato? Maggiore efficienza e recensioni a 5 stelle. La nostra tecnologia ti consente di ricevere prenotazioni dirette, aumentare i profitti e costruire relazioni più solide con gli ospiti. Soddisfa le loro aspettative con il self-check-in. Ti permetterà di ridurre i tempi di attesa, ottimizzare il lavoro e creare nuove opportunità di upselling e cross-selling. Con i software di Room Raccoon puoi monitorare le tue tariffe e aggiornarle in automatico o in tempo reale. Così facendo avrai sempre la certezza di vendere le tue camere al momento, nel luogo e al prezzo giusto. Inoltre hai a disposizione una serie di funzionalità interessanti per far crescere la tua attività e trovare nuovi modi di generare revenue. Lavorando in cloud rimarrai sempre vicino alla tua struttura anche a distanza. Il nostro marketplace collega la tua attività a una vasta rete di vendita online. Aumenta la tua visibilità e vendi su più canali senza soluzione di continuità. Scegli un software che sincronizza la disponibilità in soli 5 secondi. Overbooking sarà soltanto un brutto ricordo. In appena 5 anni, Room Raccoon ha gestito ben 5 milioni di prenotazioni e ha aiutato i suoi clienti ad incassare 600.000 euro di revenue extra. Sei pronto a soddisfare i tuoi ospiti e dare più strumenti al tuo staff con un unico software all-in-one? Scopri tu stesso perché il Room Raccoon è la scelta numero uno per gli hotel e le strutture ricettive indipendenti di tutto il mondo.